Piacere, Ciccio Italia, detto poeta. Marcello Fonte presentiamo qui a Tormina, a Spromonte, un film cui tu sei Ciccio Italia o poeta? Detto poeta, sì, detto poeta. Che dire, che dire? Stiamo parlando dall'altra parte, noi siamo da questa parte, però parliamo dell'Aspromonte che qua oggi purtroppo c'è un po' di foschia, quindi non si vede bene, però sarebbe lì, giusto Mimmo? Lì, ah sì, ah ok, quindi sarebbe lì, stiamo parlando di lì. Parliamo di Africa, dove è ambientata questa storia, di questa comunità di cui appunto tu sei una delle colonne, no? Una delle colonne, magari, magari, come dice pure il figlio, magari. Mi piacerebbe esserlo, sì, ho cercato di esprimere al meglio, come dire, il carattere della Calabria, che ho conservato quello che mi dicevano i miei nonni, i miei parenti, mia madre, e con Mimmo abbiamo fatto il lavoro di fino, ecco, è come quando uno rasa, fa un muro, un muro fatto a mestiere. Abbiamo cercato, vabbè, qua non è un muro, ma è una cosa molto più, più che i muri che si abbattono, è meglio batterli. Diciamo, è una strada, quello che si parla è di aprire le strade, costruire delle strade dove non ci sono. Parliamo di un film dove una volta si moriva, quando uno doveva partorire, moriva di infezioni, perché magari il medico non ci arrivava, perché non c'era la possibilità. C'erano le mulattiere, quindi le strade dove ci camminavano i muli. C'è un piccolo fatto nel film dove c'è proprio un muro che suggerisce dove costruire la strada, però nessuno, intanto che tutti chiacchierano, il muro ha già trovato la strada da percorrere. No, no, non vi vogliamo mancare di rispetto, signor prefetto, però guardateci, guardateci buono, siamo uomini o bestie? Rispondete. Domanda è uomini. E perché non ti fate vivere come i bestie? Vi pagano a tassa su bei capri, a tassa su po' grano. Che ci date in cambio? Io vi capisco, non è che dipende tutto da me. Volemo un medico, ho capisci questo? Volemo un medico. Mimmo dice che ci sono vari tipi di attori e ci sono quelli come te che hanno la testa da regista, che sono, sì, stai scrivendo una nuova storia, stai preparando un nuovo film? Ma io scrivo sempre, scrivo sempre ogni giorno, vivendo, scrivo vivendo, io scrivo vivendo, poi è come se scrivessi vivendo, vivo e scrivo. E poi tengo quello che mi piace, però la mia vita la scrivo vivendo. Scelgo proprio di scrivere la mia vita ogni giorno, quindi ho anche una coscienza di quello che faccio. C'è il fatto di scrivere la propria vita ogni giorno, ti consente di scegliere quello che fai. E quello che dire è chi essere, è chi volere essere, è che vestiti indossare, che colori mettere. Come l'ha fatto tu oggi che hai scelto questo vestito e sei questo vestito perché hai scelto questo e non un altro. E quindi penso questo, avere la coscienza di quello che si fa è anche la responsabilità di scegliere di essere in un modo, con tutto che puoi anche sbagliare. Quindi questo è importante. Io scrivo vivendo. Questa storia antica, che cosa ci racconta dell'oggi però? E che ci racconta? Ci racconta di quanto è semplice vivere, quanto basta poco. Ma lo dicevano tutti, lo dicono e continuano a dirlo. Anche Olmi parlava di questo, di quanto è importante il rapporto con la natura. La natura difendeva sempre i contadini e distruggeva la produzione eccessiva di tutto. Quindi io sono pienamente d'accordo. Penso che anche questo film segue quell'onda, l'albero degli zoccoli per dire. Quindi è anche quello. Questa però viene tratta da una storia vera. È stata fatta una grande cosa perché raccontare un libro in un'ora è un po' non è facile. Però c'è. C'è la storia, c'è tutto. C'è la strada, c'è la società, l'immigrazione. Si parla della tematica delle donne che morivano per essere incinte. C'è quindi non poter partorire tranquillamente i propri figli. Non c'era la corrente elettrica che forse, oddio, pensandoci bene certe volte forse era pure meglio. Bastava una lampada a petrolio a una candela che era anche più romantico. È come lo scemo del paese, no? È lo scemo del paese che tutti prendono in giro. Che però dà anche un po' una giocosità al paese. Se non c'era lo scemo, il paese come sorrideva. Quindi uno da prendere in giro, quindi non te lavo mai. E no, che dici? Io me lavo, me lavo, mi sono lavato due volte nella mia vita. E come interagisce poi il tuo personaggio con la nuova arrivata che è? Allora, mi chiamo a Mimmo, dici vabbè, vieni a fare la prova costume. E niente. Insomma, c'era questo problema delle scarpe, tutte le costumiste stavano in pazzia a trovare scarpe, cose. quelle, quelle, che l'altro. Io per scherzare ho detto, ma perché Mimmo lo facciamo? A piedi scalzi, a piedi nudi. Tanto mia mamma pure camminava sempre a piedi nudi. Chi è che ce l'aveva? Oh, ma potevo fare i fatti mia? Ci siamo fatti tutti a piedi nudi. Mi odiavano tutti. Cioè, se lo sapevano, meno male che... Ah, mo' lo sanno però. Mo' lo sanno. Ok. Vabbè sì, è stata colpa mia un pochino anche. Però è stato bello sentire la terra. Comunque i piedi sono l'antenna del corpo, quindi danno la possibilità di sentire il terreno. E sentire la propria terra è sempre bello.